L'equipe chirurgica del Seno di Arezzo ha necessità di essere rinforzata almeno in una unità e siamo usciti perché c'è stata questa imminente possibilità di firmare una convenzione con l'azienda ospedaliera di Siena e questo ovviamente secondo noi darebbe l'avvio a una smobilizzazione della chirurgia senologica ad Arezzo. E' allarme per il reparto di senologia all'ospedale San Donato di Arezzo a Lanciarlo e il Calcit perché l'unità operativa della chirurgia della mammella necessita di essere rafforzata. Ci sono già soluzioni pronte per chirurghi che possono venire ad Arezzo, chirurghi già esperti che possono venire ad Arezzo magari in una fase iniziale anche loro due volte a settimana ma con una buona prospettiva che poi possano rimanere e ricomporre quell'equipe chirurgica per dare risposte alle circa 250 operazioni che fino adesso si stanno facendo ad Arezzo. La direzione sanitaria prevede una convenzione che porterebbe ad Arezzo un professionista una volta a settimana. Secondo il Calcit tra poco potrebbero non esserci più i numeri per mantenere attiva l'unità operativa. Tanto diciamo che ad Arezzo c'è una storia sulla chirurgia senologica che parte dal dottor Caloni, il dottor Amato si può considerare un allievo del dottor Caloni. I numeri sono sempre stati importanti, superiori anche a tante altre città della Toscana e oggi siamo a oltre 250, anzi direi che se ci fosse la disponibilità di qualche sala operatoria in più potremmo anche aumentarli. C'è un limite però di 150 sotto il quale non puoi andare per essere considerato un centro di chirurgia senologica e questo il pericolo è che se te non hai una struttura dedicata e fissa il rischio è che te scendi sotto questo numero e poi ti dicono no, siete sotto i numeri e vi chiudiamo. Arrivederci e grazie. Perché il motivo ovviamente chi viene da Siena ovviamente già ricopre un ruolo di direzione perciò non verrà mai ad Arezzo ed è chiaro che prima o poi diciamo molte persone verranno indirizzate a Siena e a Arezzo te arriverai a numeri che non ti permettono di essere un centro di chirurgia senologica e ti chiudono.